La gestione del servizio idrico ha due anni dal referendum sulla ripubblicizzazione del servizio idrico e siamo in fase di organizzazione in Toscana, anche in quanto riguarda lato unico della Toscana, dei temi e della riorganizzazione del servizio. Ne parliamo con Danilo Bianchi, consigliere comunale della sinistra, uno dei 40 firmatari del referendum, quindi noi in Valtiberina abbiamo questa figura storica per questa battaglia della ripubblicizzazione del servizio idrico. Come vanno le cose dopo due anni di referendum? Male, direi che vanno veramente molto male. C'è un referendum storico perché dopo tanti anni aveva consentito il raggiungimento del quorum, più di 27 milioni di cittadini che sono arricate le urni, più del 90%, 95% ha votato per la ripubblicizzazione dell'acqua come se non fosse successo nulla. Di fatto è rimasto tutto come prima, nell'indifferenza generale, nell'indifferenza dei sindaci e nei tanti profitti che nel frattempo continuano a fare i gestori privati. Il bilancio 2012, per esempio, di Publiacqua di Firenze si è chiuso, mi pare, con 11-12 milioni di utili. La nostra nuova acqua S.P.A. chiude con oltre 3 milioni di euro di utili. Questo porterà due spicci nelle casse dei comuni, ma sono due spicci pagati in maniera assalatissima dai cittadini nelle bollette e nelle tariffe. È francamente inaccettabile questo silenzio, è francamente inaccettabile questo furto veramente di democrazia. È una cosa incredibile in cui il popolo sovrano si è espresso in modo chiaro e tutti fanno finta di nulla. C'è stata addirittura, a gennaio di quest'anno, nel 2013, una delibera dell'autorità per l'energia e il gas, vergognosa, che ha cancellato la remunerazione del capitale investito, così come è chiesto dal referendum, e l'ha semplicemente sostituita con una voce in più sul bilancio chiamata remunerazione dei costi di natura finanziaria, una cosa del genere. Cioè, si cambia il nome ma non cambia la sostanza. Quel famoso 7% i privati continuano a metterselo in tasca. Adesso c'è stata anche una sentenza del TAR della Toscana, promossa proprio su un ricorso presentato dal Comitato d'Acqua Pubblica, dal Forum dei Movimenti per l'Acqua, incredibile, importantissima, in cui ha dichiarato illegittime le tariffe che vengono applicate dall'autorità idrica toscana, l'AIT, chiaramente, perché in queste tariffe si continua ancora a comprendere questa voce. Remunerazione del capitale investito in barba al referendum e veramente in spregio della volontà popolare. Vedremo che succede. Continua la battaglia giudiziaria, continua la battaglia di disobbedienza civile in tante zone della Toscana e anche in Italia. La cosa che fa più tristezza di fronte a tutto questo scenario, veramente, di fronte a questa palese illegalità, è un po' il silenzio delle istituzioni. Ci si continua a nascondere dietro le cose che sono difficili, le cose sono complicate, facciamo una commissione. Noi sappiamo che quando si mettono in piedi questi argomenti vuol dire che non si vuole fare assolutamente niente. Mentre in gran parte d'Italia, ormai dal nord e sud in gran parte, in tante zone d'Italia, proprio dal nord a sud, amministrazioni ingimilanti stanno procedendo alla ripubblicizzazione del servizio idrico, che è fattibile, che è possibile e che è nell'interesse dei cittadini. Prendiamo comunque un esempio di una grandissima città, Parigi. C'è poco da dire che Parigi ha ripubblicizzato due anni fa il servizio idrico, ha creato un ente di diritto pubblico o di Parigi. A Parigi, da quando l'acqua è pubblica, tornata ad essere pubblica, le tariffe sono calate, il servizio è migliore. E a Parigi, l'arrivo è goccia ai racisti della compagnia di Suez, quella che gestisce anche da noi il servizio idrico tramite nuove acque. Purtroppo le cose vanno così, la democrazia da noi conta ancora molto poco. Grazie a tutti.